Video messaggio di Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi Teggiano Policastro in occasione della Pasqua indirizzato ai fedeli. L'alto prelato fa un riferimento ai drammatici episodi degli attentati con la frase «Le nuvole che si addensano sulla storia del mondo non possono fugare l'entusiasmo dei credenti». Per Monsignor De Luca la storia va costruita con la speranza, l'entusiasmo e la solidarietà da parte di tutti. L'augurio finale è che ognuno possa apprezzare la bellezza di una carezza misericordiosa di Dio. Cari amici, auguri di una buona Pasqua a tutti voi, alle vostre famiglie. Le non poche preoccupazioni e le nuvole che si addensano sulla storia del mondo non possono fugare l'entusiasmo dei credenti, la fede di chi crede nel risorto e di chi sa guardare la vita e gli impegni e le responsabilità al di là del momento contingente. Siamo chiamati a comprometterci con una storia che va costruita con la speranza, l'entusiasmo, la solidarietà da parte di tutti. In questa Pasqua di misericordia, che è proprio nell'anno della misericordia, ciascuno di noi possa gustare la bellezza di una carezza misericordiosa di Dio, dei fratelli e delle sorelle che accanto a noi si impegnano ad annunciare la gioia della resurrezione. Auguri di buona Pasqua a tutti.